Il Paradiso delle Signore Sette, Flavio Parenti, ha un passato scuro e travagliato. Finalmente sta per arrivare Tancredi nel Paradiso delle Signore Sette. Nella puntata del 27 dicembre. Il misterioso marito di Matilde giunge a Milano, dopo aver visto una sua foto pubblicitaria sul giornale. Ovviamente, Tancredi non sa che la moglie ha iniziato una storia con Vittorio ma, accecato dalla gelosia e dalla brama di controllo, ingaggerà un investigatore privato per avere le informazioni che desidera. Stando infatti agli spoiler del Paradiso delle Signore dal 2 al 6 gennaio Tancredi inchioderà Matilde e Vittorio e per entrambi inizierà un vero inferno. Flavio Parenti, il volto dell'uomo che renderà impossibile la vita a Conti, ha raccontato cosa accadrà in un'intervista recentissimo a TV Sorrisi e Canzoni. A raccontare un po' di Tancredi e il suo interprete, Flavio Parenti. Tancredi arriverà a Milano con l'intenzione di restare per riconquistare Matilde. Nonostante la storia con Vittorio che cercherà di mantenere segreta. Tancredi è un uomo difficile da capire. Dice Parenti. Non è buono ma nemmeno cattivo, ha tante dimensioni che lo rendono unico. Caratteristiche contrastanti e paradossali del suo animo che derivano anche dal suo oscuro passato. Tancredi ama Matilde, la ama davvero, ma in un modo ossessivo e idealizzato. Forse, spiega Flavio Parenti Tancredi l'ha idealizzata come l'essenza stessa dell'amore. Ha bisogno di controllarla e lo vedremo nelle prossime puntate del Paradiso. Dopo uno scontro molto acceso a Villa Guarnieri tra Tancredi e Matilde che non sarà privo di conseguenze. Il difficile carattere di Tancredi è la somma di tutte le sofferenze che ha patito e che scopriremo con il passare delle puntate del Paradiso delle Signore. Flavio Parenti ha svelato, scopriremo un suo passato oscuro e molto travagliato. E' un personaggio oscuro e chissà se troverà una redenzione. Sicuramente, il suo arrivo sarà come uno tsunami, assicura Parenti. Dopo aver scoperto la storia tra Matilde e Conti, resterà a Milano con la chiara intenzione di riavere la moglie, costi quel che costi. Ciò che caratterizzerà Tancredi sarà il bastone dal quale non si separa mai. Anche in questo caso. C'è una storia misteriosa dietro il motivo che l'ha portato ad utilizzarlo. Nel corso delle nuove puntate il Paradiso delle Signore, assicura Flavio Parenti, si verrà a sapere il motivo dell'incidente e del suo strano passato. Aggiungendo un parallelismo davvero interessante, il bastone lo rappresenta perfettamente. Ha un'anima anch'essa claudicante. Grazie. 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 Grazie.